Innanzitutto affrontiamo una squadra molto solida che nel 2013, un po' come noi, ha un rendimento alto allenante, ma nella prima parte è stata assolutamente di grandissimo rendimento. È una squadra molto ostica, i numeri lo dimostrano e la classifica lo dimostra, quindi è una partita estremamente importante anche per la nostra classifica, oltre che per la loro. E quindi è una partita difficile, è importante, è in ugual misura, quindi è una partita anche bella da preparare, è bella anche per i giocatori, credo, nel prepararla e per anche misurarsi un po' con se stessi. Quindi è una partita molto, dal mio punto di vista, molto interessante. Io tempo fa ho detto che in base anche alla classifica e ai valori che si erano visti in campo, che la Fiorentina potesse arrivare tra terza e settima, questo non vuol dire che vale per tutto l'anno. Non deve essere qualcosa che bisogna fare per forza, bisogna fare l'ultima spiaggia, noi non siamo nessuna ultima spiaggia, il nostro cammino deve essere lineare, è stato lineare più o meno, dovrà essere ancora di più lineare per i nostri obiettivi e non necessariamente pensando esclusivamente alla Champions. Se noi dobbiamo rimanere aggrappati in queste posizioni di classifica è un test molto importante domani e quindi ci dirà qualcosa in più.